Innanzitutto vorremmo ringraziarla della cortesia che ci ha usato all'inizio dei nostri lavori, di dare lettura della laconica missiva con la quale il Presidente del Consiglio ha informato questo Parlamento delle avvenute dimissioni del sottosegretario Siri. Noi non possiamo accontentarci di una laconica comunicazione al Parlamento. Questa è una Repubblica parlamentare e quindi il Governo è soggetto all'obbligo di dover riferire alle Camere rispetto ad ogni attività, ad ogni adempimento e allo svolgimento delle proprie funzioni. All'interno del Governo, non personalità di secondo piano, ma il Vice Presidente del Consiglio Di Maio ha richiamato esplicitamente alla parola mafia l'esigenza del dimissionamento del sottosegretario Siri. Sono fatti di una gravità assoluta e il Governo che fa alla chetichella, il Presidente del Consiglio, manda alle Camere una comunicazione di due righe due in settimane nelle quali i principali mezzi di comunicazione del nostro Paese hanno parlato di una escalation mediatica e politica fino addirittura ad adombrare il rischio di una crisi di governo. Concludo, Signor Presidente. Il Presidente del Consiglio cosa fa? Anziché venire qui e spiegare realmente quali siano i motivi della revoca. Anziché mandare il Ministro dei Rapporti con il Parlamento a spiegarci come stanno le cose, ha mandato un sottosegretario che nel momento in cui abbiamo posto questo tema, forse perché si vergognava, si è alzato e se n'è andato. Mi pare che sia stata la rappresentazione più plastica della situazione in essere.